16 arresti per droga tra Gira e Leonforte, due le ordinanze emesse dal Gip Nisseno ed eseguite dagli uomini della squadra mobile di Enne e del commissariato leonfortese che hanno condotto le indagini. L'inchiesta, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, ha consentito di sgominare la creazione di un partenariato operativo tra due gruppi che volevano il monopolio del mercato di cocaina e marijuana nei territori dell'Ennese. Il gruppo di Leonforte sarebbe stato capeggiato da due fratelli e i proventi della droga servivano per mantenere gli affiliati di Cosa Nostra in carcere. Già nell'agosto 2019, durante le indagini, erano state sequestrate armi ritrovate in un terreno usato dai vertici del sodalizio, mentre ad agire il gruppo a capo dell'associazione che operava su quel territorio era guidato da un uomo, già con precedenti inerenti e gli stupefacenti, aiutato da suo figlio e dal cognato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due gruppi puntavano a un partenariato operativo per gestire il mercato della droga tra Agira e Leonforte. Dei 16 arrestati, 10 sono stati condotti in carcere e 6 ai domiciliari. Grazie. 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 Grazie.